Come è stato? Un saluto a tutti, ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, iscrivervi, lasciare un bel like e provare a vincere la maglia di Raffalea autografata qui sotto le tre cose da fare, portare un paio di iscritti al nostro canale YouTube, commentare con il vostro nome alla fine del video, scaricare gratuitamente l'app di Numordiez da questo link e seguire su Instagram, mbmaglie, fatelo numerosi, mi raccomando. Per quanto riguarda il Milan è il mercato, perché il Milan fa sul serio per Juan Miranda, giocatore che non vi è nuovo, ne abbiamo già parlato anche in estate, 23 anni li farà 24 a gennaio, spagnolo 1,85, terzino sinistro con il Betis, ha un contratto e scadenza a giugno, quindi è un prossimo parametro zero. Non sta rinnovando, non rinnoverà, il Milan è pronto a presentare un'offerta scritta che sta per partire per la prossima estate, quindi per bloccarlo a parametro zero. Attenzione perché ci sta pensando anche il Barcellona e lui è un canterano del Barça, è cresciuto nel Barça, che però poi l'ha ceduto e lui ha fatto un percorso diverso nel Real Betis. Quindi c'è un po' di concorrenza, ma il Milan lo vuole fortemente e vede lui il vice Teo Hernández. 23 anni, ripetiamo, giocatore che ha anche un gol in una partita con la Spagna, interessante, ovviamente può crescere, devi verificarlo in Italia, però sistemeresti il ruolo di vice Teo Hernández. Una volta che il Milan riuscirà a raggiungere l'accordo per l'estate, non è da escludersi che possa fare un tentativo già a gennaio, con un prezzo però congruo di qualche milioncino, per così cercare di colmare una lacuna che oggi al Milan c'è come ruolo di vice Teo Hernández. Bisogna spostare di lì Florenzi, che non è esattamente la stessa cosa di quando gioca a destra. Quindi Milan fa su serio per questo spagnolo molto interessante e sta facendo di tutto per provare a bloccarlo per estate. In quel caso poi non è da escludersi un approdo già a gennaio con pagamento di un indennizzo. Tra l'altro lui è molto legato al Real Betis, del quale è neanche tifoso. Magari sarà anche suo interesse cercare di facilitare un'uscita a gennaio, così che il Betis non lo perda a zero e possa comunque avere un indennizzo dalla sua uscita. Monitoriamo insieme, commentate, iscrivetevi, lasciate un like e provate a vincere la maglia di Raffaleao. Un saluto!